Musica Seconda parte dell'intervista con Pasquale Mangione, del resto siamo sempre con degli amici in questi spazi, degli amici di Domenica Sport e quindi lui come dicevo già nella prima parte lo è in maniera molto più stretta anche per tipi di rapporti interpersonali che ci legano moltissimo. Dicevamo Pasquale, abbiamo parlato nella prima parte dell'attività di come hai iniziato, però tu sei anche uno sportivo, giusto? Non mi risulta che hai mai giocato direttamente a calcio. Diciamo che a calcio non ci ho mai giocato, però ecco dal 79 che abbiamo creato una squadra di calcio per un anno insieme a Luigi Pallante e Alfonso Miranda e poi dopo è uscito un gruppo di ragazzi a Frosolone che volevano fare calcio perché loro hanno detto va bene, fate calcio voi. E io non ho fatto diciamo calcio, giocavo piuttosto a bocce nei campetti che stavano vicino ai barri dove si andava durante l'estate. Dove non c'erano nemmeno regole, no? No, un po' di regole ma era così, non era una cosa. Poi dal 91 ho preso una squadra di calcio di under 16, c'erano una quindicina di ragazzi che praticamente volevano fare calcio e ho cominciato per sette anni fino al 98, sempre questa squadra di calcio. Poi siamo arrivati, facevamo terza categoria, giovani e la prima categoria ed era stato un pochettino, era pesante farle tutte e tre. Però siamo arrivati in prima categoria con una squadra veramente buona, che all'epoca c'erano due squadre di calcio di prima categoria poi abbiamo fatto la fusione insieme a una persona molto brava che era il presidente Romeo che purtroppo poi era un medico per incidente quindi è venuto a mancare e quindi so io tenevo questa squadra di prima categoria poi sai, quelle cose che si vogliono fare, si vuole andare, dice no dobbiamo andare in eccellenza, in promozione, in eccellenza io dicevo secondo me non possiamo perché sennò poi non giocano i ragazzi nostri nel posto e poi diventano circa 70 ragazzi come squadra e abbiamo fatto, ti ripeto, questi 7-8, poi dopo con il calcio io non ci riuscivo perché eravamo partiti in 10-12 persone poi eravamo rimasti a tre persone per cui... come capita spesso e poi ci ho messo, veramente ci ho messo due anni per fare la bacchia e mi dispiaceva di lasciarli, questi ragazzi perché dicono queste cose che fanno e allora ho fatto riunione, solo riunione, il primo anno niente da fare secondo anno ho fatto 5 riunioni, alla quinta riunione sono riuscito a mettere dentro tipo Tana dell'Orso diciamo noi, Luigi, lo stesso Domenico di Orio, un gruppo di circa 17-18 persone ho detto adesso, mi sono ringuerato, ho detto bene o male che così, è così e io mi sono tirato indietro, poi indietro ci sono stato a fianco per un anno e poi ho detto no perché non mi piaceva, era quello che io avevo detto e poi è successo perché vai a fare la promozione, giochi con 5 ragazzi, ne vado solo dentro la squadra fai l'eccellenza e giochi solo con 3, cioè che devo fare, cioè non è più uno sport per il paese quello e quindi non mi sono interessato più che poi questo fatto delle squadre di calcio con i ragazzi, per esempio io ho conosciuto tuo fratello che vive negli Stati Uniti, che ogni anno veniva in Italia con la rappresentativa di New York mi pare al torneo di Viareggio di Viareggio, sì, e l'ha fatto pure lui, prima c'era la squadra per conto suo là è stato per tanti anni, ma quello diciamo che è un po' più un matto lui vive là sì, un po' più matto di me per sprigionare soldi per lo sport quindi non è che... vabbè, comunque in ogni caso è andata così poi dopo, ma io ve la ricordo questa squadra che poi partecipò anche al campionato d'eccellenza poi dopo un po' sì sì, è salita, poi è riscesa, però è troppi soldi quindi non puoi... cioè se non giocano i ragazzi di Frosolone, fare una squadra per... così poi diventa un po' un problema poi diciamo che io ho lasciato ma nel 2001 è successo che Lelio Pallanti è andato a fare il sindaco ha detto qua c'è il bocciotromo che questo deve funzionare abbiamo fatto più di qualche riunione abbiamo delegato qualche persona e non c'è dice no qua dovete vedere tutti quanti quando facciamo la riunione no Pasqua dovete dentro dicono ma io ho tanti problemi ho tre figli, ho l'attività, devo pensare a creare quello che stava nascendo che già mi ero avviato per i figli dice che faccio, mi ho lasciato il pallone ma non gioca le bocce quindi difatti ma beh però l'hai fatto tu con tutto quanto questo sei stato sempre tu il presidente esatto perché poi nel 2002 si sono dovuto fare i lavori quindi si è portato avanti nel 23 ottobre 2003 abbiamo fatto poi l'inaugurazione che siete venuti anche voi a fare l'inaugurazione del bocciotrom che Lelio dal 2001 era sindaco e quindi nel 2003 si è fatto questa inaugurazione allora diciamo mi hanno mutato sempre io dico guarda che io non voglio non mi interessa no no qua che fai adesso forse insomma adesso c'è una bella realtà no? no ma diciamo che la realtà sì una bella realtà ma ci siamo presi delle soddisfazioni siamo andati ai campionati italiani come società a livello provinciale cioè effettivamente per una società come noi che sta a Frosolone cioè non è che già non la puoi paragonare a quella di Campobasso o quello di Pescario o quello di Caserta per dire che hanno però ogni anno fate soprattutto alla fine d'aprile fate una bellissima manifestazione questa manifestazione quasi l'ultima volta io sono sempre venuto l'ultima volta c'erano D'Alessandro che è stato un campione del mondo sì sì per tanti anni c'era il vicepresidente della federazione Bocce di Terni no? sì 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 è venuto volentieri a Frosolone insomma c'è stata sempre sì sì Moreno Rossati quello è anche oltre a quello è anche vicepresidente europeo lui sta in Svizzera dove è vicepresidente sempre del settore ma quanti soci c'è? noi siamo una quarantina di soci 45 però il fatto che non c'è il ricambio non ci sono i giovani i ragazzi non vogliono i ragazzi vogliono stare nel bar a giocare o a flip o a bera cioè quindi non c'è la gioventù di oggi nello sport delle Bocce poi non c'è stato un'aggregazione dove perché questo chi lo fa? è la scuola secondo me se la scuola non dà l'input verso questo le Bocce che è un bellissimo sport la Bocce guarda io ti posso assicurare che per me è uno dei più belli sport perché poi devi essere giovane non come dicono sei anziano sei anziano sì perché quando fai una gara perché fai cioè di fatto quando si fanno le gare la sera che si parte la mattina alla settima partita ci arrivano i giovani non ci arrivano i vecchi quindi cioè non è vero che ci vogliono diciamo è uno sport per vecchi no è uno sport per giovani speriamo che lo metteranno nelle olimpiade per il 2024 mi pare che dovrebbe entrare e quindi va bene comunque in ogni caso insomma la società Bocceovi la Frosolonese va molto bene insomma tu ci ci hai speso ci hai speso tante energie perché sì l'unica cosa che dobbiamo rinnoare io mi sono mi sono stufato quindi stufatene sempre non ce la faccio più vabbè siamo sei giovane che ti sei stufato sono giovane sì è certo perché c'è la mia età devi essere per forza devi essere per forza giovane no sono più vecchio quindi di poco di poco pochissimo però vabbè l'azienda la Cisar ha conosciuto una nuova dimensione perché avete fatto un investimento qui nella zona industriale di Campobasso ci lavorano i tuoi figli Walter e Michele lavorano qua a Campobasso Nicola lavora su Frosolone tu che giustamente potevi mai goderti la pensione tu a questo punto dici ma io inseno a questa attività che qual è il ruolo più importante faccio le consegne ti svegli la mattina io sono di fatto mi chiami diciamo perché 5 minuti perché poi devo andare a fare una consegna invece di non l'hai detto poco fa io sono cioè ti sei messo a fare le consegne no ma perché il lavoro più faticoso no il lavoro più semplice è meno faticoso no vabbè però devi prendere la macchina no no quello per me più leggero perché quando le cose le fai con con amore perché sai io non è che posso dire se i figli un giorno domani mattina dicono papà ma guarda non andiamo qua non va bene io devo dire solo scusa perché è colpa mia se qualche cosa non va è solo colpa mia quindi siccome non voglio che si dice che è colpa mia quindi vuol dire che io devo lavorare di più esci di casa e lavori se è possibile più di prima lo faccio volentire perché poi ho una squadra di nipoti tutti maschi per cui mi rallegro solo perché quanti nipoti hai? cinque nipoti maschi cinque tutte e cinque maschi cinque nipoti maschi vogliamo perché Nicola diciamo è il sesto che ha l'ottimo di Walter ma ma però sono sempre maschi tutti quanti maschi sono tutti maschi tutti maschi uno c'è una Walter se uno uno suo e uno della moglie ah ho capito quindi praticamente e invece Nicola e Michele e Nicola c'hanno due maschi per uno c'hanno due maschi per uno i nomi te li ricordi uno si chiama Pasquale uno Pasquale e Nicola il figlio di Nicola e Nicola e Daniele e Davide e Soddi Michele Daniele e Davide e Soddi Michele figli di Walter Nicolò Nicolò e Di Walter ho capito perché poi ogni anno c'è anche questa usanza no? perché ogni anno la Cisar settembre avete sempre festeggiato adesso lasciamo perdere questo periodo che ha bloccato un po' tutte le iniziative però prima la facevate a Frosolone per i clienti eh sì per i clienti c'è una un po' una sorta di stare un giorno una serata insieme giusto? serata insieme mangiare bere karaoke tra l'altro avevo sentito cantare anche tua madre una volta sì sì perché insomma io parlo di cose conosciute visto che che ci sono sempre venuto quindi evidentemente insomma c'è questo spirito sì sì della famiglia che che è molto 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 importante senti che cosa che cosa chiederti perché hai detto che stanco non sei no no assolutamente perché hai detto che puoi le consegne le fai il presidente non sono stanco no figurati e te l'ho detto che comunque c'ho una squadra di nipoti tutti maschi che mi danno una carica sempre ogni volta nonno che fai vengo pure io vogliono venire con me allora diranno quello spirito mi dice ma qua devo lavorare se no sono su questa c'è qualche problema vabbè collegato evidentemente perché insomma quando si ha un'azienda trovi anche qualcuno però insomma devi fare un recupero crediti però è delle cose vabbè questo a livello economico diciamo che stiamo attraversando ma credo che non solo la mia azienda ma tutte le aziende oggi stanno sacrificato al massimo credo specialmente quando poi la piccolina dice vabbè tutti la chiave la nostra come tante altre come la nostra hanno sicuramente problemi di natura fiscale natura cioè sulla parte diciamo economica ma non tanto per te ma è per tutto il sistema che c'è un sistema un pochettino con questo con questo l'ottavo che ci sta in giro e purtroppo non si sa si lavora non si lavora si chiudiamo apriamo allora pure le persone stanno in difficoltà ma tutti gli artigiani altri commerciali certo non è che senti però insomma credo che puoi essere un uomo soddisfatto perché sei partito praticamente da niente eh con il tuo lavoro hai creato un'attività anche per i tuoi figli e probabilmente anche per i tuoi nipoti quindi credo che tu insomma la sera quando ti ritiri credo che sei soddisfatto sì ma io ma su questo su questo posso veramente ringrazio il Signore almeno per il momento posso dire che che va sta andando per le cose che uno si è prefissato magari io me lo sono prefissato 40 anni fa quindi cioè non è che oggi ci siamo arrivati lento ci siamo arrivati lento con tutta la famiglia ma perché purtroppo è così stiamo nel nel Molise diciamo che quelli che hanno la stampa che sono anni anni quindi hanno avuto magari per piccoli artigiani come me che vengono da un paese sai non è che facile fare poi vabbè però insomma tu ci sei riuscito puoi essere particolarmente particolarmente soddisfatto credo sono soddisfatto sicuramente soddisfatto per la famiglia perché la famiglia che è stata sempre vicina che aveva sempre pensato a lavorare hanno cioè sono più che soddisfatto poi tua moglie ti dà poi sempre corda no perché insomma ci mancherebbe acqua sei arrivato a quanti anni se vai a presso a mia moglie poi non ce la fai la mattina alle 5 già sta alzando ma quanti anni di matrimonio avete festeggiato 72 ti sei sposato nel 72 quest'anno fanno 49 quest'anno quest'anno e l'anno prossimo l'anno prossimo dobbiamo fare altro che le nozze d'oro no speriamo ce l'auguriamo almeno la soddisfazione poi della vita queste sono queste piccole cose che possono raccontare noi ci auguriamo sempre la prima cosa dico io bisogna stare bene perché altrimenti non riesci a festeggiare a festeggiare un bel niente un'ultima cosa volevo chiederti perché ti ringrazio insomma che ti sei prestato a fare questa chiacchierata insieme insieme a noi diciamo hai ancora degli obiettivi perché io ti conosco tu non è che sei in questo momento l'obiettivo qual è? gli obiettivi diciamo che uno potrebbe avere anche degli obiettivi ancora però ti devo essere sincero adesso vedendo quello che sta succedendo adesso nel mondo nell'Italia e anche ma in America per esempio tuo fratello che ti dice come vanno non vanno bene non vanno nemmeno lì nemmeno lì anche se lì c'è diciamo che è sempre l'America per cui hanno sempre un spirito di ci sono più soldi ci sono non lo so quale sia c'è più evacuazione che vanno e che vengono arriva la Cina arriva la Cina quindi si incrementano sempre di più e quindi circolano i soldi molto velocemente molto di più noi in Italia qui abbiamo solo non lo so ma non abbiamo quell'ingranaggio in cui tiene l'America per esempio secondo me posso anche sbagliare però l'economia italiana si è sempre mantenuta moltissimo con la piccola medioimpresa questo è un dato di fatto però io vedo che purtroppo oggi da un po' di anni a questa parte non si capisce c'è più mi sembra che tutti l'artigiano è un ladro l'impresa è un ladro cioè mi sembra che tutto qua tutto quello e gli altri io non so ma chi produce il contadino chi è un ladro quello produce ma se non c'è il contadino chi è che produce l'artigianato se non c'è l'artigiano chi produce cioè purtroppo noi in Italia stiamo secondo me stiamo andando su una cosa un po' se non c'è una stretta per disguarda rimbocchiamoci le mani paniche tutte quante avremmo non tanto per me che già ho una certa età ma per i nipoti sarà io non la vedo bene vabbè però mica possiamo chiudere così questa questa chiacchierata chiudiamola con un no vabbè la possiamo chiudere la chiudiamo sempre positiva ci mancheremo con un pizzico di ottenismo no sicuramente continueremo a fare tante tante feste ancora la Cisar no eh a tagliare a tagliare magari tanti provoloni di quelli che che tu ogni tanto mi chiami anche lo sport anche lo sport le bocce faremo ancora tante gare quindi speriamo che che si possano fare questo è il discorso anche perché i figli e i nipoti insomma hanno veramente secondo me ancora molto bisogno di nonno Pasquale no no ma che nonno Pasquale magari Albino ci mangia il zio sì sì no è vero di nonno Pasquale di nonno Pasquale Grazie a tutti.